Benvenuti ci troviamo in Corso a Sardegna, proponiamo questo appartamento situato a un secondo piano e il riscaldamento è autonomo, quindi bassissime spese di gestione e amministrazione. L'appartamento è stato riqualificato in tutte le sue parti, abbiamo il pavimento in Granuglia la Genovese, è particolarmente bello come si può vedere. Quindi questo è l'ingresso e ci dirigiamo verso la prima delle quattro camere. Gli infissi sono in legno, completamente tutti chiaramente rivisti. Questa è la prima camera, ora c'è questo gioco di luci che non ci fa apprezzare al meglio, non usiamo da noi stesso. Usciamo dalla prima camera e ci dirigiamo verso il corridoio, questa appunto è la zona di ingresso. Alla nostra destra troviamo la seconda camera, un'altra camera singola. Usciamo dalla seconda camera, ci dirigiamo verso la terza camera. dotata di porta-finestra. Ora c'è questo gioco di luci. Ok, usciamo, questo è ciò che possiamo vedere, ci troviamo appunto come diceva in Corso Sardegna. Rientriamo nell'appartamento. E ci dirigiamo verso la quarta camera. Usciamo dalla quarta camera, questo è il bagno che è stato completamente ristrutturato con il calorifico di design. E questa è la cucina. La cucina e il bagno danno all'interno della corte. Quindi facendo un riepilogo veloce dell'appartamento, qui abbiamo la cucina, con, tra l'altro è stata utilizzata la parte superiore, dove si possono riporre diversi oggetti volendo. Qui abbiamo la calderina ed infine la dispensa, particolarmente ampia, come si può ben vedere, alta e ampia. Quindi, la prima camera singola, la seconda camera, con la porta-finestra che dà il soccorso Sardegna, la cucina, la terza camera, l'ingresso ampio come si può ben vedere, ed infine la quarta camera. Ci troviamo in Corso Sardegna.